ok abbiamo inserito tutti i dati abbiamo inserito l'id del video quindi ho inserito l'id del video del giveaway il numero di vincitore quindi è uno e il nome del canale appunto da cui fare le estrazioni che è appunto corner curvy quindi clicchiamo per vedere chi sarà il vincitore la vincitrice è quindi Sion Colza quindi mandami per messaggio privato su facebook il tuo indirizzo e congratulazioni e grazie a tutte le ragazze che hanno partecipato al giveaway presto ovviamente ce ne saranno altri ma nel frattempo continuate a seguirmi con i video e a lasciare commentini o a cliccare mi piace un saluto a tutte e un bacio ciao